Questo progetto di legge vuole affrontare il problema delle biblioteche in Lombardia. Negli ultimi anni le biblioteche e i sistemi bibliotecari lombardi hanno sofferto carenza di risorse, in particolare perché da parte delle province da cui questi sistemi bibliotecari dipendono sono sempre arrivate meno risorse. Con il progetto di legge vogliamo fare un intervento normativo per rimettere in capo a Regione Lombardia le funzioni amministrative riguardo le politiche culturali e quindi riguardo i sistemi bibliotecari e le biblioteche. Analogamente a quanto è stato già fatto da Regione Lombardia per cui riguarda le biblioteche della città metropolitana di Milano. Con questo provvedimento facciamo questa cosa per anche le province. L'obiettivo di questo provvedimento è quello di cercare di avere la possibilità di gestire maggiori risorse e quindi trasferirle in maniera più chiara e diretta ai sistemi bibliotecari. L'interlocutore non saranno più le province ma diventerà Regione Lombardia che avrà la possibilità di garantire risorse in modo diretto. Ovviamente rimane il nodo delle risorse nel senso che ogni anno Regione Lombardia dovrà stanziare queste risorse e infatti nella nostra legge per il 2017 prevediamo di stanziare 1.155.000 Euro come risorse per finanziare i sistemi bibliotecari. Tutto questo poi dovrà essere ripetuto negli anni successivi. Secondo noi questo provvedimento è un intervento legislativo per cercare di migliorare la situazione e soprattutto per dare ai sistemi bibliotecari e alle biblioteche una certezza normativa che oggi non hanno. Rimane il tema delle risorse ma che ripeto ogni anno potranno essere stanziate direttamente da Regione Lombardia senza più passare dalle province. Aspetto quindi i vostri commenti e i vostri suggerimenti su questo progetto di legge che rimarrà in discussione per 60 giorni sull'ex e vi chiedo di contribuire anche per quella che è la vostra esperienza eventuale in materia.